La nazionale di Mr. Mancini vince Euro 2020. L'Italia torna sul tetto d'Europa ben 53 anni dopo l'ultima vittoria. L'Italia è protagonista di una striscia impressionante di risultati utili e consecutivi, una striscia che porta la firma di Mr. Mancini, del suo staff e dei suoi ragazzi. L'Italia vince meritatamente Euro 2020, vince Euro 2020 giocando un calcio veramente costante, un calcio determinato, un calcio fatto di applicazione e fatto, dei principi sani applicati da Mr. Mancini sul campo e fuori dal campo. Un gruppo coeso, un gruppo bellissimo, un gruppo che scherza, ma un gruppo che quando va sul campo è protagonista di una vittoria, una vittoria memorabile. Ora passo dopo passo vedremo insieme questo documentario che ho preparato su Euro 2020, Euro 2021, sull'Italia targata Roberto Mancini. Un'Italia che ci ha fatto vivere nuovamente delle emozioni, delle emozioni che non vivevamo dal 2006. Un'Italia che ci ha fatto vivere delle notti magiche. Un'Italia che ci ha fatto vivere delle notti magiche. Un'Italia che ci ha fatto vivere delle notti magiche. Un'Italia che ci ha fatto vivere delle notti magiche. Un'Italia che ci ha fatto vivere delle notti magiche. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.